I comuni tornano in prima linea dopo qualche mese di parvenza di normalità. Il Covid, con il suo carico di decreti del Presidente del Consiglio e ordinanze regionali, riporta tutti a questa primavera. Ed è così che il Comune di Vicenza annuncia tutta una serie di azioni. Vista la difficile situazione sociale di persone in isolamento fiduciario, viene riattivato il tempo di reperire i fondi. Il servizio Vicenza sicura. Il numero è sempre lo stesso, 0444 22 10 20. Un servizio che riapriremo e che si evolverà man mano che la situazione si modificerà. Pronti a cercare di dare una risposta, soprattutto a quelle persone che in questo momento si trovano sole, prive di rete familiare. Riparte la raccolta fondi aiutici ad aiutare per dare un sostegno economico ad attività e famiglie in difficoltà. In lockdown la generosità di Vicentini aveva consentito di raccogliere oltre 2 milioni di euro. I servizi non essenziali dell'amministrazione comunale tornano in smart working. C'è stato ogni tipo di attività culturali, evento, teatro o manifestazione. Stop anche lo sport, tranne quello scolastico e le attività professionistiche. Rimane il mercato del martedì e del giovedì. Si continua a lavorare per le festività natalizie, confermato il mercatino di Natale. Chiusi invece i servizi dedicati ad anziani e giovani, compreso il bocciodromo. Siamo costretti a chiudere tutti quei centri di aggregazione sociale. Quindi i centri di aggregazione sociale per anziani, i centri giovanili e anche le sedi circoscrizionali dove si fanno attività. I cimiteri per ogni sante rimangono aperti ma si raccomanda di scaglionare le visite e si è al lavoro con la diocesi per non celebrare funzioni religiose all'interno dei cimiteri.